A Roma non è cambiato sostanzialmente nulla, qualche faccia nuova, tante facce vecchie. Eppure il sindaco Sala avverte il nuovo governo, i patti vanno rispettati, senza l'aiuto dell'esecutivo i bei progetti messi in campo per Milano non si potrebbero realizzare. E infatti c'è chi ne dubita assai. Milano è la città più eco-mobile d'Italia, capitale della mobilità condivisa e favorita dalla politica dei parcheggi da una elevata offerta di trasporto pubblico. Al secondo posto Parma, al terzo Torino, Roma soltanto quindicesimo. Spettacolare inaugurazione per la nuova sede della Fondazione Feltrinelli a Portavolta. Uno spazio di cittadinanza, come ha spiegato il presidente Carlo Feltrinelli. Messaggio del Presidente della Repubblica. Una sfida coraggiosa, Milano sempre all'avanguardia. Da oggi, cinque giorni di spettacoli ed eventi per celebrare l'apertura. Imponente manifestazione di protesta dei lavoratori team che in 1500 hanno sfilato stamane per il centro di Milano, contestando la riorganizzazione decisa dall'azienda che fa temere un prossimo taglio dei posti di lavoro. Buonasera dal TGN. Dunque, come avete sentito nei titoli, cambia il governo a Roma. Cambiano almeno alcuni nomi, soprattutto quello del Presidente del Consiglio. Non dovrebbe cambiare la sostanza. Eppure, eppure, il sindaco di Milano mostra per la prima volta un po' di preoccupazione su tutto quello che è quel progetto del fare Milano, di cui tanto si è parlato nelle scorse settimane e di cui tanto aveva soprattutto parlato Matteo Renzi. Andiamo a vedere che cosa nel dettaglio ha detto il sindaco Sala. Un libro dei sogni, così è stato bollato dalle opposizioni il progetto annunciato dal sindaco del capoluogo Lombardo, Giuseppe Sala, dal titolo Fare Milano. Sala non può più contare sul principale alleato, e cioè su Matteo Renzi, che ha lasciato Palazzo Chigi. E dunque il primo cittadino lancia la richiesta al nuovo governo, e cioè Milano pretende attenzione. Sala chiede a gran voce un cambio di marcia, soprattutto per le periferie, e lancia una sottile critica a Pisapia e alla Giunta, che lo ha preceduto. Sala ha annunciato un piano da 356 milioni di euro di investimenti, di questi 296 milioni per la riqualificazione di cinque quartieri. Gallaratese, Niguarda Bovisa, Giambellino Lorenteggio, Corvetto Chiaravalle e Adriano Padova Rizzoli. Ovviamente il sostegno dell'esecutivo è essenziale, senza una parte rilevante di denaro statale non si va da nessuna parte. In particolare i problemi arrivano dal sistema della mobilità. Allungare il metro 5 da Bignami a Monza, portare la M3 sino a Seregno, dieci nuovi treni per il metro 2, e poi la linea 1 sino a Monza-Bettola e dal lato opposto il prolungamento da Bisceglie sino a Baggio e al quartiere degli Olmi. Ovviamente poi bisogna terminare la linea 4 da Linate a San Cristoforo entro il 2022. Insomma un programma estremamente articolato, complesso e oneroso. Come dicevamo, senza fondi statali il Comune è impotente. C'è poi la questione dello Human Technopole, del campus della statale, sui terreni di Ropero. Temi molto cari all'ex Premier che adesso versano nell'incertezza. Per quanto riguarda la riqualificazione dei sette scali ferroviari dismessi, il cronoprogramma segna che nell'estate 2017 ci sarà la conclusione dell'accordo di programma. Poi sarà la volta dei concorsi progettuali sino al 2019 e gli interventi veri e propri potranno scattare tra il 2020 e il 2022. Le opposizioni dunque hanno buon gioco a parlare di libro dei sogni. Per Maria Stella Gelmini, coordinatrice di Forza Italia, si tratta di chiacchiere, mentre Sala dovrebbe pensare alla sicurezza dei cittadini. La giunta di Palazzo Marino ha stanziato fondi per il recupero di 700 alloggi sfitti di edilizia residenziale pubblica di proprietà comunale. Per gli alloggi comunali le manutenzioni, sottolinea una nota appunto del Comune, ci saranno circa 24 milioni di euro, altri 9,5 ci saranno invece per i complessi di Gallaratese e Chiaravalle. 4 milioni andranno per la riqualificazione del riscaldamento da gasolio a metano. Questo per quanto riguarda evidentemente il patrimonio pubblico. Dunque si prosegue in quel piano che vuole, vorrebbe, il cui obiettivo è zero case vuote. Messo appunto questo piano dal Comune di Milano, dalla giunta di Sala. A proposito di Milano, è arrivato oggi un titolo di cui credo che si debba essere fieri, il decimo rapporto di Euromobility sulla mobilità sostenibile nelle principali 50 città italiane. Ebbene, Milano è la città più ecomobile d'Italia. Vince non solo perché è la capitale della cosiddetta sharing mobility, la mobilità condivisa, ma anche perché è favorita dalla politica dei parcheggi, quelli di scambio, quelli a pagamento, da un'elevata offerta di trasporto pubblico, da un contenuto indice di motorizzazione e una elevata percentuale di veicoli a basso impatto. Ma anche da una, il caso di dirlo, bassa mortalità sulle strade, anche se purtroppo poi i morti negli incidenti sono sempre troppi. Decimo rapporto dicevamo di Euromobility, al secondo posto Parma, al terzo Milano. Roma, la capitale, è invece mestamente al quindicesimo posto. Il rapporto segnala anche un incremento dei numeri di veicoli a basso impatto, soprattutto GPL e metano, che raggiungono complessivamente l'8,6% del parco nazionale circolante e quelli ibridi ed elettrici che aumentano del 37,6%. Una curiosità, in questo rapporto i veicoli alimentati a GPL e metano vengono definiti a basso impatto. Invece la nuova giunta ha deciso che anche questi veicoli dovranno pagare l'area C. Sicuramente questo potrebbe, diciamo così, far discutere. Un'altra classifica, oggi, chi lo sa, è il giorno di classifiche. Questa non è, e comparire in questa classifica non è, diciamolo subito, un motivo di orgoglio. Ebbene, nel 2016 a Milano è aumentato l'uso della cocaina, si è azzerato quello delle anfetamine e si è tenuto, fortunatamente, diciamo noi, a livelli molto bassi quello delle metanfetamine e quello dell'ecstasy, uno dei più bassi in Europa. Ciò emerge dallo studio del Centro di Monitoraggio Europeo sulle droghe e le dipendenze, condotto sull'analisi delle concentrazioni delle sostanze nelle acque di scarico di 60 città europee di 18 nazioni. Le analisi per Milano sono state fatte all'Istituto Farmacologico Mario Negri. Secondo lo studio è la belga Anversa al top per l'uso di cocaina. Seguono Londra, Zurigo e Milano. Milano, perdonatemi, è in diciassettesima posizione su 60 paesi, su 60 città. non è una delle primissime posizioni, però a non esserci o essere ancora più in basso evidentemente sarebbe meglio. Il Comune di Milano, Fiera di Milano, SPA e la sua controllata Nolo Stand, SPA, sono stati ammessi come parte civile nel processo milanese a carico di Liborio Pace, ritenuto il braccio destro di Giuseppe Nastasi, amministratore di fatto del consorzio Dominus e di altre tre persone arrestate lo scorso luglio nell'inchiesta con al centro presunte, scusate, infiltrazioni mafiose nei lavori proprio di Fiera Milano attraverso la sua controllata, tra cui anche quelli relativi ad alcuni padiglioni di Expo. Voltiamo pagina a una bella inaugurazione oggi. Dureranno cinque giorni le celebrazioni per l'inaugurazione della nuova sede della Fondazione Feltrinelli. Da anni si vedeva crescere a Milano, a Portavolta, quella architettura un po' strana magari, questo tantissimo vetro. Ebbene, è la Fondazione Feltrinelli, al suo interno una biblioteca con 270.000 volumi. C'è stato in anteprima. Alberto Carrera, se ci racconta qualche cosa. Inaugurata stamane a Milano la nuova sede della Fondazione Feltrinelli, due anni sono stati necessari per la costruzione e l'allestimento interno. Una piramide di vetro e cemento alta a cinque piani con 3.000 metri quadrati di superficie che svetta a Portavolta tra Viale Crispi e Viale Pasubio. È il frutto del lavoro degli architetti Erzoghe e De Moiron. Presenti nella giornata inaugurale il Presidente della Regione Lombardia, Maroni, e il Sindaco di Milano, Sala. Il Governatore Lombardo ha detto che si tratta di un luogo speciale, un nuovo centro della cultura milanese e lombarda. Questa nuova struttura vuole essere la Casa Europea delle Scienze Sociali, un luogo a disposizione di tutti dove la ricerca incontra le persone, le arti si esprimono e le idee costruiscono futuri possibili. All'interno una libreria, un bar, una biblioteca con 270.000 volumi e 16.000 periodici, una sala polifunzionale per studiare, lavorare, informarsi e condividere esperienze, un patrimonio forse unico in Europa. Da domani fino al 17 dicembre si apre una settimana dedicata al pubblico con letture, proiezioni, incontri e spettacoli all'insegna di questo nuovo spazio di cittadinanza. Il nuovo contratto di lavoro che non arriva, il contratto integrativo disdettato dall'azienda, è una riorganizzazione aziendale che fa temere un prossimo taglio dei posti di lavoro. Per questa ragione i lavoratori della team sono oggi scesi in piazza, hanno scioperato e manifestato nel centro di Milano. Mortaretti e fumogeni in piazza affari a Milano. In scena la protesta dei lavoratori della team che oggi hanno indetto una giornata di sciopero a livello regionale. In Lombardia sono circa 5.000 i dipendenti della società di telefonia. La protesta è contro il mancato rinnovo del contratto di lavoro scaduto da due anni, la disdetta unilaterale del contratto integrativo e la riorganizzazione interna che, secondo i sindagati, è un preludio a possibili tagli negli organici. Dopo il concentramento in piazza affari si è svolto un corteo sino alla sede di Asso Lombarda in via Pantano. Nel mirino gli appalti al massimo ribasso e quelle che vengono definite consulenze d'oro elargite dall'azienda. Il contratto è due anni che è scaduto e non se ne parla ancora. Per quanto riguarda l'azienda Telecom probabilmente siamo al capolinea, nel senso che l'ultima proprietà, l'ennesima proprietà che si è avvicendata sta tirando i conti e il bilancio è assolutamente negativo per i lavoratori. E soprattutto è stato disdetto l'accordo integrativo aziendale che era quello che contiene tutta la parte relativa ai lavoratori di team, tutto quello che eccede dal contratto di settore. Sono terminati i tempi nei quali la Telecom e la team erano aziende trainanti in questo settore? Sembra di sì in questo momento, anche perché non c'è un piano industriale chiaro. Oggi siamo qui per dire di no a chi ancora oggi immagina che le aziende si possano risanare, compreso Telecom, comprimendo i diritti e le condizioni dei lavoratori. Noi diciamo di no a chi pensa che il lavoro sia soltanto un fattore di costo e diciamo di no a chi considera i lavoratori, e nel caso i lavoratori di Telecom, un apparato da rottamare. Fabrizio Corona ha una inusuale inclinazione a delinquere e le modalità di esecuzione e organizzazione del reato di intestazione fittizia di beni che avrebbe commesso denotano una sicura capacità delinquenziale, oltre che l'inserimento in un contesto organizzato e ben collaudato. Lo scrive il Tribunale del Riesame di Milano nelle motivazioni del provvedimento con cui il 27 ottobre scorso ha confermato l'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti dell'ex agente fotografico. Corona, ricordiamo, è tornato in cena lo scorso 10 ottobre mentre era in affidamento in prova ai servizi sociali per le accuse di intestazione fittizia di beni, sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte e violazione delle norme patrimoniali relative alle misure di prevenzione. Ancora cronaca, è stato arrestato in Grecia Costantin Miron, un romeno di 22 anni accusato dell'omicidio di Anna Di Vita, la donna di 80 anni, uccisa alla fine di marzo del 2014, il giorno esatto non è mai stato accertato. Durante una rapina, appunto la signora Di Vita, è stata uccisa durante una rapina nella sua casa di via dei Giaggioli a Milano. Il giovane era stato fermato il 30 settembre in Grecia dopo l'emissione di un mandato di cattura europeo ed è stato consegnato ieri alla polizia italiana. Il suo complice, il nazionale coetaneo Costantin Ionut, Lius Nea, era stato catturato anche lui in Grecia lo scorso 30 novembre, o meglio, lo scorso era stato già catturato in Grecia, il 30 novembre è stato processato e condannato dal Tribunale di Milano a 30 anni. Arrestati dopo un inseguimento per le vie di San Donato milanese tre albanesi che avevano costituito una banda dedita ai furti e alle rapine. L'Audi sulla quale si trovavano ha speronato una vettura della polizia e tre agenti sono rimasti contusi. Vediamo il servizio. Sul tavolo gli arnesi del mestiere, cacciaviti, tronchesini, pinze, piedi di porco, tutto per il perfetto scassinatore, ovviamente con refurtive di gioielli e oggetti d'oro. L'attrezzatura e la merce rubata è stata rinvenuta dalla polizia su un'Audi A5, risultata rubata, dopo un inseguimento nella zona della stazione della metropolitana di San Donato milanese, venerdì 9 dicembre verso le 16.30, mentre nella zona c'era tantissima gente. L'inseguimento è terminato con un frontale, con una vettura della polizia. Tre agenti, pur restando contusi, sono riusciti a eseguire gli arresti. Fermati subito due albanesi, mentre un terzo è stato bloccato dopo un inseguimento a piedi nei campi di San Donato, tutti di età compresa tra i 23 e i 32 anni. Un quarto componente della banda è ricercato. L'Audi era intestata a un albanese che risultava possessore di altre 500 autovetture. Già da tempo gli agenti del commissariato Monforte-Vittoria, con i colleghi della squadra mobile, seguivano questa vettura Audi che era stata segnalata durante numerosi furti e anche rapine. Colpi portati a termine tra Bergamo, Milano e Pavia. A Orio Alserio, ad esempio, il 30 novembre scorso, la banda portò a termine un furto in un appartamento, mentre due ladri stavano calandosi da un terrazzo. Sono stati visti da un uomo in compagnia del figlio di 5 anni che ha cominciato ad urlare. I malviventi, saliti in auto, hanno tentato di investire i due prima di fuggire. Dalla questura hanno fatto sapere che ulteriori accertamenti sono in corso per valutare da quanto tempo la banda fosse in attività e quanti colpi sono stati realmente compiuti. Ancora cronaca, ancora a San Donato, dove oggi i carabinieri hanno arrestato una cittadina cinese di 50 anni accusata del reato di sfruttamento della prostituzione. La donna, con precedenti specifici, aveva avviato un centro massaggi abusivi in un palazzina all'interno della quale aveva indotto alla prostituzione alcune connazionali. I militari, raccogliendo le segnalazioni dei residenti, allarmati da un insolito via vai tra i piani, hanno effettuato delle verifiche accertando che la donna accoglieva personalmente i clienti ed incassava la somma pattuita per la prestazione sessuale. Al momento dell'irruzione hanno sorpreso oltre la tenutaria cinque prostitute e due clienti. Sotto sigilli, centro massaggi, è stato evidentemente chiuso la signora condotta a San Vittore. Ci spostiamo di poco da San Donato, andiamo a San Giuliano, ma ci spostiamo di molto arrivando alla Viboldone, proprio nei pressi di San Giuliano milanese. Lì, oggi, il cardinale Scola ha presieduto una celebrazione eucaristica nell'abbazia benedettina dei santi Pietro e Paolo. nella comunità, ricordiamolo, vivono e lavorano nel restauro di antichi libri e codici 25 suore di clausura. C'era ovviamente Anna Maria Braccini che ci racconta tutto di Viboldone. Una visita che è un segno di gioia in un'abbazia che a sua volta è baluardo, solido e sicuro per tutta la chiesa ambrosiana. Il cardinale Scola, nel giorno della festa liturgica dedicata a Santa Lucia, giunge attesissimo appunto nell'abbazia dei santi Pietro e Paolo di Viboldone. L'arcivescovo presiede, secondo il rito romano, l'eucaristia, concelebrata dal vicario episcopale per la vita consacrata femminile, Monsignor Luigi Stucchi, e dei sacerdoti del decanato di San Giuliano Milanese con il decano Don Luca Violoni. L'abbadessa, madre Maria Ignazio Angelini, porge il saluto a nome della comunità che conta oggi 25 consacrate, due novizie e un aspirante. Abbiamo lungamente atteso la sua presenza e oggi è un giorno di gioia e di conferma, dice l'abbadessa, che richiama l'importante anniversario della presenza benedettina a Viboldone, 75 anni compiuti il primo maggio scorso. La riflessione si sofferma anche in senso più ampio sul cristianesimo. Non è vero che il cattolicesimo e il cristianesimo in generale sia in crisi in Europa, è giudicato in crisi da coloro che non ne hanno capito la sostanza e che lo confondono con una forza egemone di questo mondo. Il cristianesimo non è in crisi finché la santità brillerà all'interno delle sue fila, perché la santità non edifica solo la chiesa, ma edifica in profondità anche la realtà sociale e civile. In questo contesto suggerisce il cardinale se c'è un problema tra i cristiani di oggi che non c'è più il fascino per questo dono, il fascino inesauribile dell'amore. Nel riferimento a Santa Lucia l'arcivescovo formula infine il suo auspicio. Rendere questo luogo segno visibile, strumento attraverso il quale, sacramento mediante il quale chiunque passi da qui per qualunque motivo, fosse pure il turista più svagato, possa sentire il profumo che emana da questo luogo. Domenica scorsa è stato inaugurato aperto al traffico civile e passeggeri e merci il tunnel del Gottardo. Sono 57 chilometri che avvicinano Milano a Zurigo. Vediamo questo servizio. Si riducono le distanze tra Milano e Zurigo nel cuore della Svizzera. Da domenica 11 dicembre è infatti percorribile il nuovo tunnel del Gottardo, una galleria di ben 57 chilometri tra Biasca e Flulen, molto più lunga della precedente e che consente ai treni una maggiore velocità fino a destinazione, appunto la stazione di Zurigo. Le distanze tra Milano e Zurigo si sono accorciate grazie al nuovo tunnel del Gottardo di ben 53 chilometri. Eccoci nella stazione centrale della città ilvetica dopo 3 ore e 20 minuti di viaggio, 35 minuti in meno rispetto a prima. Una stazione, quella di Zurigo, modernissima, efficiente e che fino a fine anno ospita un colorato mercatino di Natale al coperto, ricco di prodotti tipici svizzeri e di oggetti etnici, ideali per regalini. Un mercatino da anni famoso per un simbolo di lusso e di eleganza. Il primo mercatino di Natale accoglie visitatori nella stazione centrale. Con i suoi 150 chalet, un albero di 15 metri con 7.000 gioielli svaroschi. Questo è uno dei mercatini al coperto più grandi d'Europa. Chi poi vuole godere di un'atmosfera natalizia particolare dalla stazione può percorrere la Bano Strasse, la strada della moda e dei negozi di gioielli, animata in questo periodo da bancarelle e colorati babbi Natale. Chi invece cerca una maggiore sintonia con lo spirito del Natale non può perdersi i canti dei giovani coristi. posizionati a formare un grande albero colorato. Con questo chiudiamo l'edizione odierna del TGN che torna domani alle 19.15 evidentemente. Adesso dopo di noi il meteo e lo sport con Michele Lanati per parlare del Milan-Roma di ieri sera ma evidentemente non soltanto di quello. Grazie, il TGN torna domani sera. Grazie, il TGN torna domani alle 19.15 a tutti. Grazie a tutti.